Il sindaco di Teramo ha revocato l'ingegnere Pietro Bozzelli dall'incarico di membro e presidente del Consiglio di Amministrazione della società Team, Teramo Ambiente, S.P.A. La decisione, le cui motivazioni sono espresse nel decreto, è scaturita dalla necessità di dare nuovo impulso alle attività della società di raccolta di rifiuti, della quale il Comune di Teramo detiene la maggioranza delle quote azionarie e di cui, secondo lo Statuto, designa i membri del C.D.A. Una decisione forte presa anche a seguito della lettera che il primo cittadino ha inviato al giudice delegato del Tribunale di Venezia, contenente la richiesta di comunicazioni in ordine allo Stato della procedura del fallimento Enertec, il socio privato della Teramo Ambiente S.P.A. Sono dunque giorni molto delicati per la Team, che stanno mettendo in appensione anche lavoratori e sindacati. Abbiamo posto diverse problematiche per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda i mezzi ed è tutto fermo, per cui giustamente il sindaco ha fatto quella lettera al Tribunale di Venezia e noi ci aspettiamo che si decida in tempi brevissimi affinché eventualmente anche con il socio privato si cominci a discutere del futuro della Team. Bisogna trattare per capire qual è stato di intraprendere. È chiaro che noi mettiamo un punto fermo, che i livelli occupazionali non vengono assolutamente toccati. Questo è un punto fermo delle organizzazioni sindacali. Chiunque sia il socio privato o eventualmente il mote, se il comune di Teramo decide di dare la mote, è chiaro che troveremo tutte le organizzazioni sindacali, tutti i lavoratori, che nessun posto venga perso la Team.